Ciao ragazzi bentornati nel mio canale youtube oggi dopo un po' di tempo tiriamo fuori una nuova recensione si chiama Crosscall Action X3 è impermeabile, è resistente agli urti, ha un'autonomia incredibile si ricarica tramite questo aggeggino qui dietro video e foto vengono alla grande la qualità dell'audio non è per niente male e ha uno schermo rinforzato da 5 pollici in HD praticamente vi ho già detto tutto di questo telefono ma mi voglio soffermare ancora un po' perché veramente sono rimasto sorpreso dalla durata della batteria di questo apparecchio ha una batteria da 3500 mAh dura dalla mattina fino alla sera cioè era da una vita che non aveva un telefono che durasse così tanto l'unico che gli stava dietro era lo Xiaomi Redmi Note 4 che mi durava una giornata intera ma devo dire che questo mi dà molta molta più fiducia e più sicurezza proprio per un discorso di robustezza è un po' pesantino ed è anche leggermente più ingombrante magari prendiamo a mano proprio il Redmi Note 4 per capire le dimensioni però vi assicuro che a livello di utilità di utilizzo anche perché io lo utilizzo quasi sempre con gli auricolari bluetooth però non trovo un problema alla pesantezza 152 x 79 x 12 e mezzo pesa 213 grammi e gira con Android Nougat 7.1.2 ha un processore octocore da 1,4 GHz Snapdragon 8937 lo schermo come vi dicevo prima è da 5 pollici e è così vedete che ha la sua bandina nera i tasti non sono qui ma si trovano all'interno dello schermo una risoluzione HD da 16 milioni di colori e la batteria da 3500 mAh che vi dicevo prima mi dà 3 ore in chiamata e un'autonomia in stand by da 24 giorni se non utilizziamo ovviamente il 3G e tutto il resto in realtà con dichiarata 24 giorni in realtà sfruttandolo al massimo con tutte le applicazioni attive come un telefono normale una giornata, una giornata e mezza la fa tranquillamente il sensore fotografico è da 12 megapixel ovviamente flash incorporato e la fotocamera frontale è da 5 megapixel per farvi le videochiamate è un dual sim tra l'altro tutte le portelline tutti i portellini che ci sono anche quello del jack audio è con chiusura, vedete, stagne e anche quello per la ricarica si ricarica tramite USB di tipo C al suo interno può tenere due nano sim oppure una nano sim e una micro SD da fino a 128 giga ha un bel po' di sensori anche se non è il top gamma perché è un X3 Action questo c'è anche l'X3 Tracker ha un bel po' di sensori ovviamente il sensore di luminosità il sensore di prossimità il GPS l'accelerometro e la classica bussola all'interno della scatola viene fornito con un paio di auricolari con il filo e viene fornito purtroppo senza l'adattatore per la ricarica in induzione X-Link che deve essere acquistato a parte peccato perché mi sarebbe piaciuto tra l'altro è anche magnetico ed è molto utile se lo vogliamo anche collegare all'automobile ma non lo danno di serie costa una cinquantina di euro e bisogna comprarlo extra la cosa comoda è comunque che stanno uniformando tutto all'USB di tipo C e quindi GoPro telefonini droni un po' tutto con USB-C quindi piano piano la micro USB sta andando in pensione sono rimasto veramente soddisfatto di questo modello di telefono vi ripeto soprattutto per il discorso robustezza mi dà questa sensazione di indistruttibilità anche se effettivamente mi è caduto poche volte per ora e quasi sempre su terreni morbidi su erbe eccetera però ho visto il buon Luca Road Therapy che si è dato da fare lo ha lanciato a destra e sinistra magari andate a vedere anche la sua di recensione perché ne vale la pena spero che vi sia piaciuta questa recensione a me questo telefonino è piaciuto proprio un bel po' sotto nel link in descrizione troverete il link per l'acquisto se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi ora al mio canale cliccate anche sulla campanellina in modo che possiate rimanere sempre connessi e informati su quando escono nuovi video un saluto a tutti quanti ciao